La panteria austria In donna è morta Senti, in tutti questi anni, quando io non pensavo a te e tu non pensavi a me, abbiamo anche avuto momenti felici Per 50 anni Beatrice è stata zitta pur di non perderti Siamo stati tutti zitti Che peccato Che sciupio Non dicevo che voi italiani state vivendo un momento assai difficile ma assolutamente esaltante Sì, per voi Già, chissà perché Per voi francesi le situazioni italiane più sono difficili e più sono esaltanti Chissà perché Non c'è niente da vedere Cosa pensi? Né chi penso Nella vita mia non si pensa più Solo ricordi Non c'è niente da vedere Non c'è niente da vedere Non c'è niente da vedere